Recuperare edifici e aree in pianti pubblici destinati al servizio dei cittadini è la finalità del Bando 2020 Nuovi Cantieri della Fondazione Caripit. Ammontano 2 milioni e 400 mila euro i fondi messi a disposizione per i progetti, 27 dei quali sono stati finanziati. Quest'anno abbiamo avuto 44 domande, quindi da quasi tutti i comuni della provincia, per un totale di richieste di circa 5 milioni e mezzo di euro. Il lavoro della Commissione è stato molto impegnativo, sono stati selezionati 27 progetti per un totale di somme che saranno erogate di 2 milioni e 350 mila euro, destinate soprattutto a scuole e a impianti sportivi. Si va dal recupero dell'ex Cinemateatro di Pieve Agnevole alla progettazione della scuola materna di Montagnana, passando per lavori in scuole di Quarrata, Monsumano e Montale, silo alla ristrutturazione della palestra comunale di Casalguidi, il Museo Ferrucciano di Gavinana ed interventi per l'abbattimento di barriere architettoniche ad un'altra palestra, la Masotti di via Antonini a Pistoia. E quindi con ricadute benefici subito pronti per la nostra comunità e anche con benefici per gli operatori economici che saranno chiamati appunto a realizzare questi appalti.